Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. L'emergenza maltempo in Campania ha causato notevoli problemi nella regione durante la giornata di sabato 23 settembre, il primo giorno d'autunno. Forti temporali hanno portato allagamenti, caduta di alberi e danni alle coltivazioni. La situazione è stata particolarmente critica a Caserta e nelle zone circostanti, dove grandinate e nubifragi hanno colpito diversi comuni. Strade, sottopassi e garage sono stati allagati, alberi sono caduti e gli automobilisti hanno affrontato disagi. Il comune di Caserta ha invitato i cittadini a essere estremamente prudenti, a evitare di uscire di casa se non è strettamente necessario e a prestare attenzione agli alberi e ai sottopassi. Oltre ai temporali, in diverse aree della regione si sono verificate copiose grandinate che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni, distruggendo in alcuni casi raccolti interi e danneggiato le auto parcheggiate. I danni più gravi si sono verificati nel Sannio, soprattutto nella zona vitinicola della Valle Telesina e nell'area della comunità montana del Fortore, dove sono presenti numerosi oliveti. Le zone più colpite dall'ondata di maltempo nella campagna settentrionale sono in particolare le province di Caserta e Benevento, insieme all'area a nord di Napoli. I fenomeni più intensi, come i temporali violenti, le grandinate e il forte vento, hanno interessato queste zone. Anche Napoli e l'Interland sono stati colpiti da un violento nubifragio, che ha causato allagamenti e disagi nei trasporti, con chiusure di stazioni della metro e ritardi sui treni della circunvesuviana. Grazie per la visione, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella. Grazie per la visione!